Presidente, ora non si scherza? No, non si scherza assolutamente, quando si viene a Berlino si fa per fare le cose per davvero perché continua a rimanere una delle fiere più importanti al mondo e quest'anno proprio fin da questo primissimo giorno si vede un euforio, un movimento che mi lascia ben sperare. A noi piace il movimento perché noi dobbiamo guardare ai mercati e qui l'area del mercato mondiale si legge tutta, dobbiamo anche confrontarci, dobbiamo pensare al prodotto in controstagione, anche se questa edizione forse la facciamo con un po' di amare in bocca perché abbiamo la sensazione che non facciamo tutto quello che è necessario per l'agricoltore. Abbiamo avuto tante traversie, l'anno 2023 è stato un anno che si ricorderà più che per le disgrazie che per le cose buone, ciò nonostante va vista la voglia di continuare a crescere. È vero che nel nostro paese, in Italia, i consumi continuano a calare purtroppo, l'anno 2023 segnerà un meno 6% che si aggiunge al meno 10% del 2022, quindi la traiettoria purtroppo è calante. E se da un lato questo richiama la necessità di una forte azione istituzionale nazionale per riconvertire questa rotta, dall'altro ci fa sempre più capire che la conquista di mercati lontani è un obiettivo da privilegiare sempre e comunque. Certo, ci si mettono anche delle altre difficoltà perché le guerre in corso ci danno il problema del Mar Rosso e chi deve raggiungere i mercati del Medio Oriente deve circunnavigare l'Africa con dei costi che raddoppiano rispetto a quelli che dovrebbero essere. È un mondo difficile ma i rappresentanti e gli operatori dell'ortofrutta non vogliono mollare. Infatti noi troviamo anche delle autorità marittime, dei porti rappresentati qui in Fiera, ci si può confrontare anche con loro per capire come fare per la logistica, per il trasporto. La Fiera è uno strumento indispensabile che non possiamo sicuramente non fare e sottovalutare. Assolutamente, la Fiera è luogo di incrocio tra la domanda e l'offerta, è luogo di conoscenze, è luogo di contrattazioni tra coloro che producono e i buyer che acquistano. Ed è luogo di tante relazioni perché senza relazioni non si fa sistema e senza sistema non si conquista il mondo. Presidente, lei è agricoltore, è molto riflessivo, ha contatto con gli operatori. Ecco, questa agitazione ci ha lasciato anche un po' di amare in bocca. Parla delle agitazioni di questi giorni, dei trattori? Beh, certo, le agitazioni sono sempre una manifestazione di sofferenza e quindi come tale bisogna tener conto del disagio. Però bisogna anche credere nelle forze organizzative che tutelano gli interessi della categoria perché la disintermediazione non è cosa buona. Perché nei tavoli istituzionali bisogna andare a trattare su quelli del governo e su quelli dell'Unione Europea. L'Unione Europea in questi anni aveva preso una deriva pseudoambientalista con lacci, laccioli, vincoli, balselli che impedivano all'agricoltore di continuare a fare l'agricoltore. Anche questo accanimento contro la chimica senza dare le alternative di come si può fare a produrre senza la chimica. Quindi mi pare che anche nelle vicende di questi ultimi giorni a Bruxelles lasciano capire e sperare che la Commissione Europea abbia capito che stava andando fuori strada. Me lo voglio augurare. Gli agrofarmaci anche se ritornano ad essere utilizzati, diciamo al consumatore che è l'agrofarmaco, viene utilizzato quando serve. Non è che il fatto che adesso sono stati in qualche modo sempre liberizzati in maniera strutturata, non è che diventiamo improvvisamente non più sensibili al territorio. Ma per carità, dobbiamo tener conto che l'Europa rispetto al mondo è l'area dove c'è più rispetto per l'ambiente e più contenimento di qualsiasi tipo di trattamento chimico. L'Italia a sua volta nell'Europa è il paese ancora più rigoroso. Basta vedere le analisi che ogni anno fa il Ministero della Salute sui residui di fitofarmaci nei prodotti, parliamo dello zero virgola in Italia. Quindi c'è questa sensibilità. Il problema è che se togliamo la possibilità all'Europa di continuare a fare l'agricoltura, i nostri consumatori mangeranno i cibi e i frutti provenienti da altri angoli del mondo dove questi regolamenti non esistono, dove trattano ancora con degli antiprassitari che da noi sono vietati da 20 anni, da 30 anni. Questa è la demagogia imperante. Non tornano questi... Ma nella maniera più a solo... No, diciamo. Ma nella maniera più a solo... Tutto torna a tornare... Hanno solo frenato un accanimento contro che si stava instaurando, ma mica si torna indietro. Il contenimento della chimica è nelle cose. Bene, lei Presidente è riuscito già da anni a Fruittologistica a mettere insieme le imprese. Non è stata cosa facile. Oggi mi sembra di vedere che ogni angolo, ogni spazio è occupato. Probabilmente stando insieme anche, a volte guardandosi di traverso, dico male, male si fa per dire, col concorrente vicino, però stanno insieme per andare in mercati. Quei mercati lontano che oggi sono anche in controtendenza con noi. Beh, direi che questo, e lo dico con gioia, nell'anno passato, che è stato il 25esimo compleanno del CSO Italy, questo è stato forse il maggior successo che CSO Italy ha raggiunto. Cioè quello di riuscire a mettere insieme tutte imprese che sono concorrenti tra di loro, ma che capiscono che per conquistare mercati lontani bisogna farlo insieme. Poi ognuna ha il proprio tavolino, ognuna incontra i propri buyer, ma il sistema è unito. E non è un caso se più di vent'anni fa, quando abbiamo cominciato a venire a Berlino e vanno 100 metri quadrati, adesso ne abbiamo più di mille. Questa è la prova della progressione geometrica che c'è stata. L'ultima è la domanda scomoda. Come dare più reddito alle nostre imprese agricole, le prime, coloro che coltivano, che producono? Questo è il problema dei problemi, perché il consumatore si trova spesso a pagare prodotti che con l'inflazione sono cresciuti notevolmente e che pesano anche sulle tasche, ma quando andiamo a vedere al reddito che rimane all'agricoltore, molto spesso parliamo del 10-15%. Quindi bisogna riappropriare all'agricoltura, attraverso un riequilibrio della catena del valore, lo spazio che merita. Questa è probabilmente la battaglia più difficile. Grazie a tutti.